A Gian Piero Leo, responsabile nazionale per la cultura dell'NCD, il compito importante in questa giornata dedicata alla donna di aiutarci a capire in che modo l'arte e la bellezza possono aiutarci ad uscire da un sentimento comune che il cittadino ha oggi di sfiducia nei confronti della politica. Mi permetto di dire che il buon governo dovrebbe essere donna. Mi sbaglio in questo? Per certi versi no, anche perché le società matriarcali che abbiamo conosciuto nella storia hanno funzionato meglio. C'è anche un meraviglioso libro di fantascienza, scritto negli anni 20 addirittura, intitolato Una settimana fra mille anni ed è un mondo governato dalle donne. È migliore, però gli uomini se la passano proprio male in quel mondo, per cui qualche preoccupazione ci sarebbe perché poi le donne sono talmente brave che quando fanno le cose le fanno proprio al massimo livello. Tornando a noi vorrei fare un'osservazione che per fortuna però non è soltanto mia ma di molti intellettuali, scrittori, sociologi soprattutto come Derita o Il Vio Diamanti. Dicono che è vero che c'è sfiducia nella politica, ma la verità è che c'è sfiducia di tutti verso tutti. Intervistati i cittadini in maniera scientifica su grandi campioni, la cosa politica è quella che salta più agli occhi ma facendo domande sulle categorie, sulle associazioni, fino ad arrivare al vicino di casa, la sfiducia dell'essere umano verso l'altro essere umano. E questa è una cosa molto brutta. E qui andiamo al concetto di bruttezza, nel senso che oggi, magari dico in maniera un po' semplicistica, è una società in cui sembra che la bruttezza prevalga. E non è soltanto la moralità, ma proprio la bruttezza anche nel senso più ampio estetica. Ripeto quello che dicevo a questo formidabile convegno promosso dal cantiere, cui il presidente Pierpaolo Segneri ha veramente, con i suoi collaboratori, disegnato una cosa bellissima. I giadisti che distruggono opere d'arte antiche e bellissime di migliaia di anni fa. Le donne indiane, l'immagine della donna più elegante, più stuprate da bande di uomini. Ma venendo a Roma, gli olandesi, per noi il nord Europa è simbolo di civiltà, che fanno una specie di mini sacco di Roma trattando opere artistiche di valore infinito, come Robaccia. E parlando della mia città, Torino, ragazzine di 14-15 anni, che vanno, fra virgolette, a far l'amore nelle toilette, si riprendono e mandano in giro i loro video. Non è solo amorale, che potrebbe sembrare un po' bigotto dirlo, ma non è proprio brutto rispetto a una concezione del mondo, mentre il bello ama l'arte, il bello rispetta la donna, come dire, chi ama la bellezza, ha la concezione della donna angelicata, nobile, l'opera d'arte che cambia la civiltà, l'amore che è il massimo da raggiungere possibile per un essere umano, la massima elevazione che richiede prove, momenti, eroismi, somme bellezze. Invece si è scelta la bruttezza. Allora, chi ha il coraggio di dire contro tutto, contro tutta questa società, che bisogna rilanciare la bellezza per salvare il mondo, come ha detto il sommo poeta e ripreso da Giovanni Paolo II, dice una cosa che può sembrare folle. Dice, ma come? La crisi economica, gli scontri di piazza, la Grecia, l'Algeria, la Libia, la Siria, parlate di bellezza. Paradossalmente sì. Se questi jihadisti amassero la bellezza, non distruggerebbero la cultura millenaria del loro popolo. E così via, se i cittadini amassero la bellezza, voterebbero politici che hanno cura, che hanno cura, che si curano, che hanno a cuore il destino del paese, le aree più belle. Non voterebbero chi fa fare affari, perché certo è facile prendersela con chi governa, ed è anche lecito, è anche giusto. Ma pensiamo chi è perché li appoggia. E come sarebbe difficile, lo diceva proprio un interlocutore qui prima, per un De Gasperi essere votato oggi. Un De Gasperi oggi non sarebbe capito dai cittadini che se si esaltano, con tutto il rispetto, non voglio fare politica, ma per Grillo e Salvini vuol dire che insomma pescano nella parte più brutta dell'essere umano, quella che genera rabbia, al di là delle idee che possono essere giustissime. Ma uno non può uscire da un incontro politico carico di rabbia, di rancore, di voglia di farla pagare, saltare contro questo e quello, dovrebbe uscire esaltato, con un sogno, una missione, esco e vado a costruire un paese migliore, lavorando con più gente possibile, costruendo il bene comune. Come dice Papa Francesco, ecco finalmente un leader che non a caso richiama sempre la bellezza. Per questo complimenti infiniti al cantiere a cui ho aderito convintamente già tempo fa, perché uno di quei luoghi, e qui ci sono tanti altri esempi di associazioni, che lei dottoressa Nata è capace a creare una rete fatta di fili di cristallo, d'oro, di bene, e queste associazioni vanno sostenute, vanno sostenute perché sono gli anticorpi al male. Brevemente, siamo in chiusura e non potevamo che chiudere con questo meraviglioso intervento di Giampiero Leo, lei ha citato Papa Francesco, una citazione sua, mi permetto di dire che avendo ascoltato oggi le parole del Papa a mezzo televisivo, sono state dette due frasi bellissime, e come se fossero un aforisma vorrei che lei me le commentasse. Papa Francesco ha detto ogni donna è libera a modo suo, e poi le donne hanno una grande pazienza, e proprio questo è il loro elemento rivoluzionario. Da quale cominciamo? Cominciamo dalla seconda perché è fondamentale. Le donne hanno tenuto in piedi intere società per secoli, e la pazienza si diceva che è la virtù dei forti. Allora chi è più forte, chi non va in escandescenza? Il dramma è un tipo di società, quella della teoria gender, che vorrebbe dire che non esistono differenze tra uomo e donna, e quindi negare questa specificità meravigliosa della donna, una teoria che sembra apparentemente progressista e femminista, in realtà vuole negare alla donna questa specificità, questa specialità che la natura ha dato. La mia preoccupazione è su questo vigile il Papa, quando denuncia sempre il rischio dell'omologazione, infatti anche se non è stato riportato perché non conveniva, non veniva bene, tornando da uno dei suoi viaggi più importanti, Nero ha parlato continuamente contro i rischi della teoria gender, cioè di chi dice che siamo tutti uguali, che più siamo omologati meglio è, che la società che ci forma, che non c'è nulla di naturale, che non c'è nulla di superiore, di supremo. Di naturale appunto. E quindi la mia preoccupazione è che le donne diventino, fra virgoletti, come gli uomini, cioè che per le donne hanno gli stessi diritti, e oggi dobbiamo riconoscerlo, superiori capacità. In Iran vincono i concorsi, poi i comeinisti, i fondamentalisti, cancellano queste cose, le respingono nel baratro, ma evidentemente. Per cui la preoccupazione è che nella parità assoluta, nel riconoscimento di ogni diritto, la donna non tenda a diventare come l'uomo, non assuma tutti i difetti. E lo stesso sarebbe il peccato inverso. Ognuna di noi è libera a modo suo, e questo come lo interpretiamo? Libera di vivere la sua esistenza, e forse a questo punto potremmo dire, prendiamo esempio e rivolgiamo ai cittadini questo appello di diventare tutti spiriti liberi e liberali. Giustissimo. Se io penso a quello che le donne patiscono in varie parti del mondo, ripeto, non voglio neanche incentivare il vettimismo, per esempio nei paesi occidentali, le donne non sempre hanno usato le capacità e il potere che hanno ottenuto. Sovente sono state il principale ostacolo proprio alla crescita di altre donne. per una forma di invidia, di gelosia, che purtroppo nella donna è più forte che nell'uomo. Per cui, ripeto, nessuno è un angelo, ma dobbiamo lavorare per avere il meglio di ognuno. La frase del Santo Padre è bellissima, insiste molto su questo concetto di libertà, perché ritiene che sia collegato alla responsabilità. Uno possa, debba scegliere, e quindi debba essere maturo, debba fare un percorso, perché solo chi è maturo e fa un percorso è capace di scegliere. Chi invece non è maturo non sceglie e non è libero, fa il pecorone. E chissà che dopo questa giornata del cantiere, che è un serbatoio di idee, non sia proprio germogliata, l'idea di un nuovo rinascimento, che per noi è una rinascita della mente, perché arte e bellezza stimolano i sensi, ma anche e soprattutto la mente. Grazie. 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 Grazie.